Mi chiamo Roberrici su Instagram da quando ho 13 anni, da quando l'ho aperto Volevo fare un mix tra Roberta, Fragole in inglese, quindi è uscito Roberri Poi ho messo una C perché il mio cognome è Carluccio, tutta fatta, niente di speciale Anche se mi sforma la faccia, sto filtro a me garba, comunque mi dico di Toscani Garba comunque è un tema molto delicato, la faccio breve Io penso che chi più chi meno, tutti da piccoli, abbiamo sofferto di bullismo Nel mio caso ho imparato a picchiare, quindi li sfondavo di pugni Rispondo a tutte quelle ragazze che mi chiedono Roberta, ma da una terza come fai a trasformarla in una quinta? Allora ragazze, preciclo e push up dei cinesi da 3 euro e siete a cavallo? Tutto è possibile, just do it Raga enorme, ce l'ha con me Dove è andata? Dove è andata?